A Castellana Sicula c'è qualcosa che non va A Castellana Sicula c'è qualcosa che non va Vicino, la pista ciclabile, sta andando a credo dei fatti La giovane promessa del ciclismo compie 18 anni Il piccolo Riccardo è diventato un uomo Sarà cresciuto bene il nostro amico? Andiamo a controllare Siamo in un quartiere sperduto di Castellana Sicula E tutto va bene Andiamo a vedere cosa ne pensano gli amici Andiamo Siamo di fronte il circolino degli amici Cosa farà le nostre amici? Buonasera Siamo dall'Iene, possiamo entrare? Eh? Prego Buonasera ragazzi Buonasera 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 Vorremmo farvi qualche domanda su ciclismo Cosa ne dite? Suicchio Ma guardate quel minchia volete? Buona Se volete iene Dai caldo Vorrebbe farti qualche domanda su Riccardo Sù Cosa pensi di Riccardo? Io a pensare è un mio amico, un grandissimo amico da tanti anni Ma io stavo avanti in roba, ma tu puoi La lasciamo al suo lavoro, prego Posso farvi qualche domanda su Riccardo? Perché questo è da me? C'è il compreanno, i 18 anni del Riccardo, voi non ne sapete niente? Ti ho detto che tu ho compreanno, ma le c'è niente Cosa ne pensi di Riccardo? Riccardo è un ragazzo ritardatario, troppo figo, simpatico ed egocentrico Cosa vuoi dirci di Riccardo? Vorrei fare la faccia dell'ex di Riccardo Defenisci Riccardo con un aggettivo di malesco Un grandissimo pezzo di classico Fai i tuoi cuori a Riccardo Tanti amori Tre aggettivi descrivimi Riccardo Simpatico, disponibile, tenero on Abbiamo incontrato una fantastica fanciulla Andiamo a vedere se conosci a Riccardo Tu chi sei? La ragazza di Riccardo Cosa ti ha fatto innamorare di Riccardo? Il suo giufforiccio Come classificheresti Riccardo? Il ragazzo perfetto Cosa pensi di Riccardo? Non vuoi parlare? Defenisci Riccardo con un aggettivo Testone Ora che abbiamo intervistato tutti gli amici Possiamo tornare studio Eccoci di nuovo in studio Dopo aver parlato con gli amici Possiamo definire Riccardo come Un simpaticone Un vanitoso Un testone Ma alla fin fine Un tenerone Adesso possiamo vederci il filmato Movimento che ha fa production Attenzione Ha fa production Eh signori Signori Lo vedete quell'uomo? Lo vedete quell'uomo? Quell'uomo Signori Quell'uomo ha capito tutto della vita Ma proprio tutto Guardatelo Guardatelo che charme Guardatelo La sua bellezza La sua eleganza La sua ironia Altro che tu Riccardo Altro che tu Riccardo Basta Non te la vogliamo dire più Ora basta La devi finire Riccardo Tanti auguri Tanti auguri Tanti auguri Tanti auguri Tanti auguri dalle iene Tanti auguri Benvenuti qui Ammazzate sul ballo Oggi è successo Un nuovo filmagine Che se poi te ne metti Come non Nui Sì Grazie a tutti 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 Grazie a tutti